Vediamo come va questa connessione se oggi il microfono funziona un pochino meglio. Vediamo subito quali sono i temi fondamentali di oggi per andare un po' sul concreto. Imprese all'attacco del governo, il titolo fondamentale che fa oggi il Corriere della Sera, perché forse voi non ve ne sentite nessuno in Italia se ne è reso conto, ma ci sono ancora gli Stati Generali, quell'inutile passerella, quella gigantesca minchiata che stanno facendo in una bellissima villa romana che serve assolutamente a nulla se non a incensare qualche volta il governo fa di prendere gli schiaffi. Ieri il presidente della Confindustria che è appena arrivato in Confindustria dice, cioè Bonomi basta con i ritardi, vogliamo la liquidità e come chiosa perfidamente il fatto, seguendo quello che ha detto Conte, cioè il suo leader di riferimento, annuncia grandi piani di rilancio alla Confindustria e poi si limita a chi chiedere la restituzione di 3,4 miliardi di accise sull'energia messa così obiettivamente sembra molto più simile e verosimile a quello che dice il fatto al grande piano della Confindustria, perché la Confindustria in realtà quello che ha fatto vedere più che un grande piano è uno standing antigovernativo sull'inutilità delle mosse messe in piedi oggi dal governo, ma certo poi a sporcarsi le mani difficilmente c'è riuscito. Volino più alto, dice Conte rispetto a chiedere le accise, però qui invece si dimostra il grande differenza tra gli industriali, anche se il loro capo non ha mai svolto attività industriale, e i politici. Volino più alto, però poi gli industriali devono volare poco in alto, devono pensare di finire alla fine del mese con il fatturato, pagare gli stipendi, pagare le imposte, pagare gli affitti. Insomma, il volare più alto di questi qua che vogliono digitalizzare la pubblica amministrazione, riformare le giungle, quelli volano forse un po' troppo alto. Insomma, forse una via di mezzo su un volo più normale, cioè un volo normale per le persone, per esempio, non è volare alto, chiedere e pretendere che la gente riceva la cassa integrazione che gli è stata premessa con 55 miliardi di euro. Oggi il messaggero, a proposito delle battute, volare più alto e volare meno alto, ricorda che l'81% dei decreti attuativi, dei 13 decreti legge che sono state fatte durante l'emergenza Covid, l'81% dei decreti attuativi non hanno preso vita, non esistono e senza un decreto attuativo non c'è legge, non hanno nessun valore le minchiate che loro ci scrivono. Toc toc, con te! Invece di dire al Presidente della Confindustria di volare più alto, tu vola un po' più basso e cerca, per esempio, di smaltire questi decreti attuativi, perché se no anche le cose buone, peraltro poche che avete fatto, servono assolutamente a nulla. Questo scrive oggi il messaggero, i due decreti attuativi tra i tanti, per esempio le ristrutturazioni di Lizzie, quel megapiano, che poi megapiano non sarà perché dovrà essere cambiato, mi auguro dal Parlamento, se no varrà soltanto per poche fatti specie, beh, quel bonus e mobilità e ristrutturazioni col cavolo che riusciamo a farlo. Gualtieri, però, devo dire la verità che oggi mi sembra la persona più ragionevole, se sono vere le cose che leggo nell'apertura di Repubblica di tutta la giornata, perché Gualtieri cose un po' concrete le dice, secondo quello che scrive Repubblica, sciapo a Gualtieri, meno vincoli sul lavoro a termine, un tabù per i grillini, ma anche per quei geni del Movimento 5 Stelle e dei leghisti, perché io vorrei ricordare a tutti quelli che ci seguono qua, e l'ho detto tante volte a Salvini in faccia, che due cose ha sbagliato clamorosamente durante il governo giallo-verde. Il primo è il decreto dignità, possiamo anche discutere di quota 100, ma sicuramente il decreto dignità e prescrizione sono state due robe che hanno la firma leghista, il decreto dignità, quello è un decreto che oggi non solo è una minchiata, ma era ideologicamente sbagliato all'epoca, per cui sostanzialmente sono morti i contratti a termine, quindi chi ha un lavoro in un'azienda in realtà se lo tiene massimo per 12 mesi, neanche 24, e poi l'azienda cambia, perché non è che evitando che uno gli si rinnovi il decreto, il lavoro a termine, poi dopo finisce il lavoro a termine, se le aziende hanno quell'esigenza non c'è decreto che glielo possa impedire, ma questo era difficile farlo capire da alcuni dei miei, soprattutto al Movimento 5 Stelle. E poi l'altra cosa che dice giustamente Gualtieri, non potremo continuare sempre a mantenere questo blocco dei licenziamenti, e questa è l'altra cosa pazzesca che sta avvenendo in quest'ora in cui si dice alle aziende, non potete licenziare, non avete soldi, vi diamo pochi finanziamenti, e poi cosa succederà secondo voi quando si sbloccherà il licenziamento? Che licenzieranno tutti e ci sarà quel settembre nero di cui tutti quanti noi parliamo. Sulla questione dei prestiti, Italia Oggi fa un pezzo molto interessante, e questo è a beneficio degli amici del fatto, e cioè fa vedere quante persone hanno ricevuto, quante aziende hanno ricevuto i famosi prestiti sopra i 30 mila Euro garantiti dall'Istituto Medio Credito Centrale. Bene, soltanto il 24%, cioè soltanto pochi fortunati, uno su quattro è riuscito ad avere quel prestito di cui il fatto quotidiano può godere, e oggi ritorna su questo sempre come si chiama Sanzonetti sul riformista per chi è appassionato alla materia, solo il 24% che l'ho parlato, l'altra questione fantastica è quella di, diciamo la seconda grande notizia di giornata, è la vicenda parlamentare ieri del MES, e lì ci spiega bene il Corriere della sera, Verderami, in realtà cosa c'è stato? Non c'è stata una comunicazione, ma un'informativa, questa è l'Italia, c'è il MES che dovrebbe darci dei soldi, potete essere d'accordo o non d'accordo, io sono per il pragmatismo di Franceschini e di Berlusconi, insomma l'inciuce orrendo che a voi non piacerà, però comunque lasciamo perdere il pragmatismo, cosa ha fatto Conte? Questo vi dimostra come governato d'Italia che non fa una comunicazione al Parlamento, ci spiega Verderami, ma un'informativa, e la differenza che per noi esseri umani non esiste, perché sembrano due cose identiche, in termini gerghi parlamentari vuol dire che la comunità non si vota, l'informativa è soltanto una specie di comunicazione ottriata da parte del sovrano e nessuno la vota, l'informazione, in maniera tale che l'informativa non spaccherà questo governo. Cosa dice a questo punto, come si chiama, cioè Rasa? Fa un attacco tremendo all'opposizione dicendo che non hanno un programma, non dettono l'agenda e addirittura ieri erano divisi nell'uscire fuori dall'aula, cosa è perfettamente vera perché ieri prima esce Fratelli d'Italia, poi parla la Lega e poi esce la Lega, invece Forza Italia rimane in aria e dice che sono abbastanza dei cialtroni, sono abbastanza ridicoli, questa opposizione è abbastanza ridicola. Devo dire che lo spettacolo di ieri invece secondo me è descritto meglio da tutti di Folli, perché prima Folli critica questo governo che non riesce a prendere una posizione, perché è vero quello che dice Claudio Cerasa, cioè che l'opposizione è ridicola, ma se l'opposizione è ridicola la maggioranza fa orrore, perché una maggioranza che non prende su una questione di questo tipo una linea perché sa che quella linea non c'è, sarà ben peggio rispetto al fatto che un'opposizione non c'abbia una linea e che solo un cieco non riesce a capire chi è più nella maggioranza che nell'opposizione. Poi io che non amo questa maggioranza, certo farei un discorso di questa situazione, svegliatevi, perché così non andate da nessuna parte, non c'è una linea comune, parlatevi, perché tre Galli in un pollaio come quello di cui uno sta non sempre diciamo in Italia, non so quali sono esattamente i Galli appunto in questo pollaio, rischiano di rendere, e questo c'è ragione, c'è rasa, sempre più forte questo governo purtroppo per insipienza dell'opposizione, no, per vischiosità che quando si arriva a Palazzo Chigi i poteri hanno nel rimanerci, mio punto di vista, dice giustamente Folli una brutta pagina della come si chiama, della storia parlamentare, nel frattempo il quotidiano nazionale lancia un'idea, cioè bisogna che la crisi in cui stiamo vivendo faccia sì che si rinvino le ferie, i politici continuano a lavorare ad agosto, caro quotidiano nazionale, è una buona idea, sempre che la politica riesca a farlo, ci siamo resi conto che la politica fa poco, in realtà è la burocrazia che ci ha bloccato, burocrazia che vorrei segnalare che è continuamente pagata dai contribuenti italiani, non ha la cassa integrazione, eppure col suo smart working basta provare a fare una pratica edilizia in qualsiasi comune, grande comune italiano, non sostanzialmente risponde a nessuno, quindi non solo i politici, forse bisognerebbe far ritornare al lavoro, sì al lavoro, i nostri dipendenti pubblici, ma ovviamente loro sono super tutelati, nel frattempo la foto più bella della giornata e l'idea di quel gran casino grillino che è in corso e continua a essere in corso, lo trova Giorgio Gandola, oggi sulla Verità, in cui fa vedere Di Maio che va a fare l'incontro con lo Svizzero, suo omologo per cui si riaprono i confini con la Svizzera, beh insomma scrive e fa vedere una foto a Giorgio Gandola, 8 auto blu, 8 auto blu, top! Dovevate aprire il Parlamento con una scatoletta di tonno, 8 auto blu e 4 camionette per andare in Svizzera, ma chi ti sei portato? Meglio andarci con un elicottero di Stato che con 8 auto blu! Nel frattempo dal punto di vista giudiziario Cantone diventa il procuratore di Perugia e Perugia è la procura che indaga sui malaffari di Roma, quindi su Palamara, Travaglio si scaglia perché dice è una palamarata 2.0 quello di nominare Cantone alla procura di Perugia e il motivo è che Cantone è stato nominato all'ANAC da, come si chiama, da Renzi, questo ve lo dico io e quindi nominato da Renzi, fumo negli occhi per Travaglio e invece Sallusti la prende solo da un punto di vista molto più sano, secondo me la questione della giustizia, in maniera bipartisan, questa è la giustizia per cui Carminati viene rilasciato perché non riescono in sei anni a fare una sentenza e perché il governatore della Toscana non riesce a fare un appalto degli autobus perché in Toscana sono sei anni che la giustizia tra penale e civile gli mette i bastoni per le ruote su questo appalto, insomma come possiamo vivere in un mondo con una giustizia di questo tipo? Gervasoni ci fa vedere che tutto il mondo e il paese, sempre sul giornale ci racconta come in realtà l'America è un paese in cui ciclicamente è investito da ondate di intolleranza tipicamente protestanti e puritane e ci racconta quella cosa incredibile per cui in questo momento in America stanno pensando di abolire in alcune città la polizia, cioè dalla polizia che ti spara, dalla polizia che non ti fa uscire dall'auto, dalla polizia che c'è i teaser prima di tutti gli altri, arriviamo a questa follia americana per cui si deve abolire la polizia, devo dire che ognuno è infelice davvero a modo suo, lo è la Cina, oggi il Wall Street Journal si compiace, si fa per dire che in Cina ritorna il virus, ultima cosa che vi segnalo è, dibattito sempre sulle opposizioni, vi ho detto Cerasa, il pezzo di Cacciari sulla stampa che dice la demagogia di Conte che si affida a tecnici per risolvere problemi politici e il Parlamento invece per Feltri è il vero, qua c'è la è il vero, qua c'è la domanda, per risolvere problemi politici e il